Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna, subito vi dico il rossetto che ho su, è un bellissimo gloss che ho già da un po' di tempo di Bar Minerals, è un malva della linea Gen Nude e si chiama Can't Even, è un bellissimo malva molto lucido, non appiccica, molto piacevole e idrata tantissimo le labbra, è una formula in olio, mi sembra così, provandolo. Il video di oggi mi è venuta l'idea così, e cioè di parlarvi delle mie piccole fisse e fissazioni, molti di noi le hanno, in maniera più o meno massiccia, naturalmente stiamo parlando di cose senza le quali non possiamo vivere, ma cose che ci fanno sentire più tranquilli, che ci fanno stare meglio. Se anche voi ne avete, se avete voglia di dirle o di dirne anche solo qualcuna, scrivetemelo nei commenti. Allora, le mie piccole fissazioni, ve le dico così come le ho scritte sul mio tablet e nell'ordine in cui le ho scritte, quindi non in ordine di importanza. Per esempio, mangiare le ciliegie sempre in numero pari. Questa è una mia piccola fissazione, di solito ne mangio 10 o 12. Di meno no, perché poi una ciliegia attira l'altra. Vedrete che poi quelle che vi elencherò si possono poi raggruppare in realtà, forse in un paio di gruppi. Adesso vediamo. Così ci conosciamo anche un po' meglio. Poi, per esempio, controllare che la porta di casa, di ingresso, sia chiusa quando io so benissimo che è chiusa, perché magari l'ho chiusa io. Ad esempio, se di notte mi sveglio, mi capita di svegliarmi, a volte mi viene il dubbio, ma l'ho chiusa la porta e vado e controllo. Perché avviene questa cosa, secondo me? Perché uno potrebbe dire, va bene, ma l'hai chiusa tu. Questa fissazione, questa idea, viene rinforzata dal fatto che a volte l'ho trovata aperta. Sì, signori, la porta di ingresso di casa. In piena notte l'ho trovata aperta, cioè accostata, diciamo, chiusa, ma non con il giro di chiavi. Con uno o due giri almeno di chiave. Il fatto che mi è successo, perché magari è uscito qualcuno dei miei, distrattamente, magari anche solo per buttare la spazzatura, e quando è tornato su non ha richiuso, può capitare a chiunque. Di solito, prima di andare a letto, controllo la porta di casa e chiudo il gas. Però, so che non tutti lo fanno, è di chiudere il gas. Però appunto io poi tendo a controllare, insomma, non sempre, ma qualche volta mi succede. Poi controllare naturalmente se hai chiuso il gas quando so che l'ho chiuso io stessa. Però controllo una volta, non è che controllo e poi ricontrollo. Controllo una volta, mi tranquillizzo, basta. Poi, una la sapete già, perché lo faccio anche nei video a volte. Adesso cerco di non farla, perché ho visto che danneggia l'audio, perché tocca poi il microfono. E mettere una velina qui per proteggere il colletto di maglie, maglioni, magliette. Quando mi trucco, perché ho sempre paura di sporcarmi. Come ho paura anche di sporcare i capelli, avendoli bianchi, col fondo tinta. Però quella mi è un po' passata. Tanto ho visto che se succede si può tirar via con un po' di acqua micellare o qualcosa, se ci si arrangia. Poi, questa forse è un po' curiosa, però ho visto che lo fanno anche altri. Metto l'audio, sapete che nelle tv di una volta non era così, ma nelle tv di adesso, la, come si dice, la, quando alzate o avvassate l'audio, compare un numero nello schermo. Che dà un valore, no? 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, fino a non so quello che è. E io preferisco mettere sempre un multiplo di 5, cioè di solito 20, 25 metto. Su alcune piattaforme bisogna mettere 30, perché sennò non si sente. Comunque mi sembra più ordinato, mi piace che sia un multiplo di 5. Poi, quando prendo delle tazze o dei bicchieri puliti dalla credenza, controllo con un gesto leggero sul bordino, faccio così, per vedere se sono rotti o crepati, insomma, oppure se sono integri. Perché questo mi è capitato, naturalmente queste cose nascono dal fatto che a volte vi capita proprio il fatto contrario. No, quello dell'audio, della tv, che succede se mettete 24? Niente. Quello è più un po' una cosa proprio nostra, di chi ci tiene a fare sta roba. Quella delle tazze e dei vetri si sono integri perché ovviamente qualche volta li avremmo trovati rotti, capita. Infatti uno delle mie paure infantili era bere qualcosa che fosse rotto e che potevo inghiottire i vetri. Vabbè, era una bambina un po' strana. Poi, pulire la cornetta del telefono, questo sul lavoro lo facevo sempre. Ho anche un telefono usato solo da me, eh. La cornetta del telefono, o lo schermo del cordless con un fazzolettino di cotone, o un fazzolettino di carta, prima dell'uso e dopo l'uso. Non lo faccio con il cellulare perché uso il vocale, quindi si sporca meno. Invece io quello lo appoggiavi proprio, quindi il sudore, il trucco, si spoccava di brutto se qualcuno se lo ricorda. Poi, preparare i vestiti la sera prima, per il giorno dopo, quello sempre. E poi devo combinare i colori, questa è una cosa che mi piace tanto. Può essere anche un colore tristissimo, può essere anche nero, no? Però, per esempio, il nero cerco poi di illuminarlo con qualcosa magari di bianco, se devo andare a una qualcosa di formale, magari qualcosa di triste. Metto però di solito un dettaglio bianco, non rosso, non giallo, eccetera. Però li preparo prima, preparo anche le scarpe, le calze, beh adesso fa caldo, niente calze, però in inverno naturalmente saranno più capi, in estate sono meno, però mi preparo anche quando sono al mare. Preparo il costume da mettere al mattino, il sacchetto con le creme solari, lo zainetto della spiaggia, tutto preparato prima. Poi, preparare con molto anticipo le valigie per le vacanze. Più è lungo, impegnativo il viaggio, prima comincio. Per esempio, prima di andare a New York, ho iniziato un mese prima. Di solito al mare inizio un paio di settimane prima, se la permanenza è lunga. Poi, vediamo un po' gli altri. Alla sera, quando guardo la tv, magari smangiucchio, non più di tre caramelle senza zucchero, che ho lì sul tavolo, qui, il tavolo che c'è qui, dove c'è la tv, quindi proprio metto in poltrona e smangiucchio. Non sul divano, se no, ma addormento, sul poltrona che mi fa stare più dritta e più sveglia. E mangio queste tre caramelle. Di solito, il numero di tre, e faccio così, due del gusto che mi piace meno, ma che mi piace, ma meno, e l'ultima, l'apoteosi, quella che mi piace tantissimo. Ditemi voi, questo è un po' buffa. Questo anche è il cibo. Magari mangio prima, se c'è, non so, una cosa col contorno, magari sono golosa del contorno, mangio prima la pietanza e poi il contorno, o viceversa, sono più golosa della pietanza, mangio prima il contorno. Vabbè. Poi, pensare ai regali di Natale in anticipo di un mesetto. Non è che già comincio a comprarli. Magari anche, comincio di solito, verso la fine di novembre, comincio anche a comprarli online, che dopo se no non trovate un tubo. Però, il pensiero può essere anche da ottobre, inizio a pensare. Poi, leggere un libro per volta, mai due o più insieme, proprio per un mio ordine mentale. Di solito, questo è tipico delle persone introverse. Le persone estroverse leggono tante cose, fanno tante cose tutti assieme. Io ho bisogno, invece, di un po' di ordine. Poi, rispetto alla pulizia, sono un po' fissatella. E, per esempio, pulire le scarpe prima di riporle in scarpiera o in scatola. Voi dite, beh, è normale, no, ma io pulisco anche la suola. Come fai a pulire la suola? Ho delle serviette umidificate che uso proprio per quello, che costano poco. Indosso, naturalmente, dei guanti allo scopo destinati, e che possono essere anche quelli usegetta. Pulisco bene tutto l'esterno della scarpa, anche il sotto. Se sono, per esempio, delle sneakers, se sono ciabatte di plastica, si può fare sotto l'acqua, tranquillamente, con acqua e sapone. Se sono delle sneakers, si può fare sopra con un laveglia e sotto con la velina. Se proprio le devo riporre, perché è finita la stagione delle sneakers, lavo bene anche sotto con una spazzolina all'uopo destinata anche la suola. E, ok. E poi le metto via. Però, anche se le ho usate una volta, se le lascio giù in terra, ok, no, le lascio giù in terra e ciao. Ma se le ripongo, anche se fosse in scarpiera, devo pulirle. Ragazzi e ragazze, so fatta così. Qualcuno mi ha chiesto del video dei regali di compleanno. Guardate che io ricevo quattro cosine. Ci facciamo sempre quattro cosine. Ce le ho. Le ho, naturalmente le ho già ricevute. Mi mancano però due o tre cosine che mi deve mandare un'amica che ha intuito molto carinamente un mio desiderio su una collezione, manco a dirlo, beauty. E me l'ha ordinato. Insomma, sta aspettando che le arrivi su Douglas. Per poi farmelo avere. È un pensiero carinissimo. È una collezione, io non sono sicura, ma sospetto che me l'abbia presa. È una collezione stupendere. Se mi ha preso tutta la collezione è un apoteosi. Anche se mi avesse preso un solo pezzo, sono contenta. È una collezione bellissima che non ha ricevuto, credo, la notorietà che forse merita. E ne ha parlato sotto un mio video uno di voi. E poi la citerò, naturalmente, nel video che farò del compleanno. E quindi quello lo preparo appena mi arrivano queste altre cosine. Bene, amici e amici, proprio un video veloce veloce di una decina di minuti. Ho anche da fare un video su un libro che ho finito di leggere. Fanno pochissime visualizzazioni. Ecco, sapete? No, ma non importa, io le faccio lo stesso, lo sapete? No, ma era per dirvi, curioso, no? Di un personaggio televisivo, ma proprio dello spettacolo, non televisivo. Le visualizzazioni sono tante. Per esempio, quel video che ho fatto su quel bellissimo libro, gradevolissimo, secondo me, di Drusilla Foer, ho ricevuto, a parte anche qualche insulto, ma non fa niente, un sacco di commenti e tantissime visualizzazioni. Vabbè, comunque, magari un giorno poi parleremo delle tipologie di video che sul mio canale hanno più visualizzazioni e quelli che le hanno meno. Ma così è tanto per chiacchierarne, non che quelli che hanno poche visualizzazioni. Io sono su YouTube per divertirmi, non è che... Ok, ci siamo capiti. Niente, spero che vi diverta, vi abbia divertito questo breve video. Se avete anche voi delle fissazioni, io so che ce le avete. Scrivetele. Ah, stavo dicendo prima. Come vedete, le mie fissazioni si raggruppano un po' su due blocchi, diciamo, quello riferito alla pulizia e quello riferito ai rituali, e che mi tranquillizzano. Vabbè, così, perché questo è anche un po' il mio carattere, sono un pochino controllante. Questo mio ipercontrollo viene però bilanciato, per mia fortuna, anche da una certa capacità di autoironia e quindi di relativa sdramatizzazione. Bacione, ricordatevi sempre di fare ciò che vi fa stare bene, amiche e amici, e naturalmente noi ci vediamo alla prossima. Ciao amiche e amici. Vi faccio vedere il poro.